Il marzo è primavera, mattina e sera, io voglio star con te. Bravo, bravo. Urgroc, che dovete? Ah, dal 12 al 17 luglio siete tutti invitati al Borgo Rock Festival, grazie a tutti, grazie. Andate al Borgo Rock Festival, però venite pure al Festival Teatro che sono 10 anni, mica il giorno. C'è Antonio Giuliani stasera, lo aspettiamo. Ci vediamo, ciao. Quando vuoi? Sto là. Dal 12 al 17 dovevi venire al Borgo Rock. A Fiano? A Fiano Romano. Dal 12 al 17 Borgo Rock Festival, a Fiano Romano, yeah. Tiber Valley. Dal 12 al 17 luglio venite al Borgo Rock. Lo diventisco. Non hai parlato solo. Venite al Borgo Rock, dal 12 al 17 luglio. Di l'altro quest'anno? Quest'anno, 2017. Ha chiesto di Santa Maria. Ha chiesto di Santa Maria. A Fiano, Fiano, Roma, Roma, Roma Nord. La grande Roma Nord, a Fiano Romano. Ma non lo sai che dal 12 al 17 c'è il Borgo Rock, è chiaro? Da 13? Dal 12? Dal 12. Dal 12. Dal 12 al 17 luglio. Aio. Venite a Fiano Romano che c'è il Borgo Rock Festival. Aio. Aio. Capito? Aio. Grazie a tutti